Il piccolo ambiente in cui ci troviamo, denominato Cappellina, era originariamente un sottoscala adibito a locale di servizio. Tra le opere esposte, tutte di soggetto religioso, ci soffermiamo sull'adorazione dei magi. Il dipinto rappresenta la visita dei tre re magi al bambino Gesù, uno dei temi preferiti dagli artisti del Rinascimento, poiché consentiva loro di raffigurare una gran varietà di personaggi e di masterizi, con dovizia di particolari e un risultato finale particolarmente gradito all'occhio dell'osservatore. In questa tavola l'artista si è soffermato soprattutto sulla descrizione delle vesti e degli ornamenti dei magi, magnifici e riccamente vestiti con abiti di bloccato, terle e pietre preziose. La Madonna siede al centro con il bambino in braccio. Alle sue spalle è San Giuseppe, mentre i re magi la circondano sui tre lati. La natività è ambientata non nel misero ricovero narrato dai Vangeli, ma tra le rovine di un'antica architettura, forse un tempio. Sono ancora visibili le colonne con l'architrave, una struttura muraria che potrebbe corrispondere al podio e un arco di ingresso. Il riferimento all'antico è uno degli altri grandi temi cinquecenteschi, ripercorso dagli artisti a partire da Raffaello fino a Vasari, che nella diacente sala del camino o del trionfo della virtù dipinge sulle pareti paesaggi fantastici punteggiati dalle rovine di città antiche. L'artista appare di ambito fiammingo, anche se operante in un contesto fiorentino, per la grande attenzione dedicata ai particolari e per la ricchezza del materiale pittorico, percorso da minuziose dorature. Grazie a tutti!